La regista romana Ina Bertmuller, il giorno dopo l'annuncio che riceverà l'Oscar alla carriera, sentiamo Rossella Alimenti. Roma è la mia città, io ci sono nata, ci sono vissuta, la amo moltissimo. Potrei parlare di lei per vent'anni. È trascorso appena un giorno dalla notizia che alla regista verrà consegnato il 27 ottobre a Los Angeles l'Oscar alla carriera, ma andrà a ritirare il premio? Io non lo so, penso forse sia che... Politico, squartatore. Lina ha fatto grande il cinema italiano, ma cosa trovavano gli americani nei suoi film? Ma forse il ritratto dell'Italia. La Bertmuller ha lavorato tanto con Federico Fellini per il quale ha parole di grande affetto. Tanto Fellini era un personaggio straordinario, irrimitabile, unico. E quindi per me è stato un grande privilegio poter lavorare con lui. La regista vive in una casa bellissima al centro di Roma, ricca di ricordi della sua vita felice insieme al marito Enrico Giobbe e alla loro figlia Maria. La regista è un'amarea ancka, immagino a dim flankermee a farlo da tornare a terra per il popolo Schumboifie e alla loro figlia. E' tutto il tuo see è solo...